ciao io sono simone ed oggi prepariamo una besciamella leggera veloce da fare e vegana facciamo sciogliere la margarina a fuoco basso potete sostituirla se non ne avete a disposizione con un buon olio di semi versiamo la farina e mescoliamo cercando di non lasciare grumi possiamo poi versare l'acqua un pochino per sciogliere la roux e poi tutta l'altra pizzico di sale e giriamo senza mai fermarci quando inizierà a bollire spegniamo aggiungiamo la noce moscata molto meglio ovviamente se macinata fresca e al momento e mescoliamo ora il segreto sarà farla raffreddare e rapprendere qualche minuto poi potremo usarla oppure conservarla in frigo coperta da pellicola spero vi sia piaciuta e se così fosse iscrivetevi al canale lasciate un like un commento e magari condividete buon appetito